Un viaggio alla scoperta della fibra ottica e di tutte le potenzialità della connessione ultraveloce tra quadri e colori. Tecnologie e arte si incontrano a Bari, in Piazza Diaz, in occasione del lancio dei nuovi servizi della rete in fibra ottica di Telecom Italia, che sono già attivi nel capolugo pugliese, prima città in Puglia. A fare da scenografia l'installazione dell'artista Francesco Musante, quasi un percorso per scoprire passo dopo passo tutte le novità dei servizi ultra internet fibra che permettono di scaricare musica, film, in pochi minuti, superando di gran lunga la classica DSL. Di fatto è un modo per poter navigare in internet, telefonare, eccetera, in una maniera sempre più veloce, perché arriva fino a 30 mega, per cui si possono scaricare dati e fare cose che oggi non si possono fare con la DSL. Oltre a conoscere i nuovi abbonamenti, si può verificare, solo con il proprio numero di telefono, se la linea può essere coperta dal servizio e cogliere così tutti i vantaggi della fibra ottica. Basta andare su un sito appunto Telecom Italia, dove viene verificata la vendibilità e quindi inserendo il numero telefonico si scopre se la fibra è vendibile e viene attivata in pochissimo tempo.